San Giovese può avere tante caratteristiche e tanti sinonimi con quello che è il carattere di noi mare in mani, di questa terra che va dal mare alla collina, gente sincera, gente lavoratrice, gente che suda nei campi per poi vedere nella propria bottiglia tutta la passione e il cuore che ci mette nel corso di una vita. A presto, a presto. 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 A presto.